Bilancio finanziario in aula entro dicembre, ce la facciamo? L'obiettivo è questo, aspettiamo ancora che il governo però approvi il bilancio e la finanziaria in giunta per poi portarla in aula. Dovremmo fare una corsa contro il tempo ma credo che sia necessario anche perché se vogliamo dare una risposta ai precari, visto che vanno in scadenza a fine anno, dobbiamo inevitabilmente affrontare il tema dei precari anche col tema del bilancio e della finanziaria della regione. Quindi siamo in qualche modo costretti ad affrontare il bilancio finanziario entro la fine dell'anno, anche se io lo considero un atto di igiene politica quello di darsi un bilancio finalmente, in cui dal 1 gennaio tutte le istituzioni sanno quali sono le risorse e come possono programmarle. Le primarie del PD segneranno un nuovo corso per il partito? Intanzitutto segneranno il fatto che il PD è un grande partito che costruisce attraverso la partecipazione popolare la propria storia e la propria identità. Io di questo ne sono orgoglioso, domenica sarà una festa, io mi auguro che questa festa coincida con il risultato positivo del candidato che io sto sostenendo, che è Gianni Cuperlo e per questo mi sto battendo perché domenica ci sia un bel risultato che confermi quello tra gli iscritti che c'è stato in Sicilia. Grazie. 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 Grazie.